Sono stati individuati dai carabinieri di Reggio Calabria, nel quartiere Argillà, diversi mezzi incendiati e privi di qualsiasi elemento identificativo poiché asportato o abraso. I veicoli non più funzionanti erano abbandonati e privi di ogni componente meccanica. In tutto si tratta di 20 carcasse di autovettura, costituenti rifiuto speciale, rinvenute sul suolo pubblico e precisamente all'interno della piazza denominata Italio Calabro, nel quartiere della periferia nord di Reggio Calabria, divenuto oramai una vera e propria discarica a cielo aperto. I militari hanno proceduto all'immediata rimozione dei mezzi e al conferimento di essi ad una società autorizzata per lo smaltimento. Proseguono intanto gli accertamenti al fine di rintracciare i proprietari dei veicoli responsabili di abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali.